Su tutto il piano naturalmente si possono fare tante cose perché in Italia la dipendenza dell'energia russa, del gas e del petrolio russo è tuttora alto, quindi bisogna costruire probabilmente dei pipeline nuovi, bisogna investire sull'energia rinnovabile, l'Italia ha già fatto tanto, però l'Italia è anche un paese dove sui pannelli solari si può fare molto di più, si può insistere ancora di più sull'energia idroelettrica, quindi la strada per andare veramente verso una percentuale più alta di energie rinnovabili è ancora lunga e anche costosa, quindi è giusto che si investa anche in questo settore.